Allora ragazzi, io ve lo prometto qua, se questo video supera i 12.000 mi piace, vado a verniciare le auto dei pompieri che sono tutte di un colore strano e io le voglio di rosso, quindi dobbiamo superare i 12.000 mi piace. Saluto Carlo, Alex e Adele, scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nei miei video, se siete nuovi iscrivetevi al canale col tastiera rosso qua sotto e attivate la campanella su tutte quante le notifiche e superiamo i 12.000 mi piace per un nuovo video della vita in città. Ragazzi, benvenuti per questo nuovo video della vita in città, mi raccomando, superiamo i 12.000 mi piace, a parte gli scherzi, so che tanti voi stanno guardando la vita in città ma ancora non sono iscritti al mio canale, quindi mi raccomando iscrivetevi col tastiera rosso qua sotto. Allora oggi il video esce alle 5 perché poi come sempre alle 7 esce il secondo video di oggi e sarà anche quello molto epico, ma oggi ragazzi appunto dobbiamo fare le nostre classiche missioni da pompiere all'interno della vita in città perché ormai abbiamo questo lavoro incredibile ragazzi. Molti di voi mi hanno consigliato di fare una cosa, mi avete detto, Marco ma scusami un attimo, visto che il buon Chris ha speso i soldi qualche settimana fa per comprare i mobili per l'esterno, cioè vi pare normale che dove devono atterrare l'elicotteri, l'elisoccorso, a fianco c'è una jacuzzi. A me non pare normale e mi avete detto, Marco ma visto che Chris ha speso questi soldi col tuo conto, prendete i mobili che sono rimasti in avanzo e ragazzi avete ragione anche voi, guardate quanta roba è avanzata. Quindi abbiamo anche un bel po' di mobili che già avevamo preso dalla casa sotto al ponte, in più abbiamo questi nuovi mobili più 14 scope da regalare anche ai nostri amici. Allora, comunque, vediamo quella nostra missione di oggi, poi dopo pensiamo anche ad arredare. Chris dice, oggi, essendo giornata di riposo, niente lavoro, ottimo ragazzi, ma il sindaco Sid ha detto che c'è stata una donazione sconosciuta che ci permetterà di avere soldi per comprare un nuovo mezzo per i pompieri. Quindi vai da lui, ok ragazzi, quindi uno sconosciuto ha fatto una donazione verso i pompieri così facendo che possiamo magari comprare un nuovo mezzo ragazzi. Allora, se non c'è rosso, oggi non compro nessun'auto e perché davanti al garage c'è questo cattorcio minuscolo arancione che mi fa stifolo, voglio vendere, è inutile. Allora, prendiamoci la super auto blu con Rocconimi e Fra e la messa lì e la messa là, andiamo però verso, appunto, il nostro amico sindaco Sid. Facciamo un giro da questo lato, controlliamo se la città è tutta quanta a posto, mi sembra più che tutto quanto suuuper tranquillo. Allora, qua c'è il ragazzo, ragazzi vi ricordo che qua c'è il ragazzo con la maietta gialla, quello super mega strano, perché era colui che non diceva nulla l'altra volta. Comunque, parliamo col sindaco Sid e vediamo cosa vuole. Allora, Marco, un imprenditore sconosciuto ha donato ben duemila euro. Investili per la caserma, comprando nuovi veicoli o migliorando i livelli di costruzioni. Bello! Scusatemi, ma ha donato realmente duemila euro. Ovviamente questi duemila euro qui non vanno all'interno della mia tasca o del mio conto. Vanno nel conto della caserma, anche se poi alla fine corrispondono, eh, perché alla fine questi dannati spendono sempre, sempre, sempre i miei soldi. Però, comunque, ci può stare, ci può stare. Non investiamo... Ok, ho investito il ragazzo con la felpa gialla, non avete visto nulla, ragazzi. Non salvatevi il minutaggio, non denunciatemi, non fatevi del male, vi prego, però controlliamo se tutto quanto è in ordine, tutto quanto va bene, passiamo da... Scusatemi? Scusatemi? Ragazzi? C'ha una cosa in mano questa ragazza. Ha un flint and steel! Guardate come continua ad allontanarsi, ragazzi, eravamo qua in fondo, sembra che si stia allontanando, eh. Allora, si salve, non è come pensa. Lei è il pompero della città, giusto? Ebbene sì! E questa cosa qua che l'ha in mano è il flint and steel, mi preoccupa un pochino. Allora, ho trovato questo flint and steel vicino al parchetto del palazzo arancione e stavo per consegnarglielo. Ok, va bene. Allora, va bene, io mi fido di lei, però me lo consiglio, già che c'è, scusami un attimo. Cioè, mi ha lanciato flint and steel e se n'è andata, vabbè, grazie mille, va bene. Allora, me ne vado, provo a non investire anche lei e vado direttamente al concessionario. Oggi, comunque, ragazzi, è una giornata veramente molto strana e molto difficile dentro la vita in città. Perché, boh, non lo so, sindaco che c'è da 2.000 euro, grazie a un imprenditore sconosciuto. Questa che ha trovato forse l'arma del delitto, se la possa anche chiamare così. Perché vi ricordo che ultimamente stanno appiccando incendi qua e là un pochino in modo strano. Comunque, facciamo una cosa con molta calma. Andiamo direttamente verso il concessionario con molta calma, dato che io sono al pomperio della vita in città. Posso muovermi in giro e controllare se qua sta andando tutto quanto molto bene, tutto quanto tranquillo. Sì, tutto quanto ok. Guardate qua le guardie, che ogni volta sono qua fuori mi preoccupano. Sì, salve, sono il pompiere, buongiorno. Sto comprando soltanto delle auto, non mi guardate così male. Secondo me, ragazzi, comunque questi qua mi stanno riconoscendo ogni volta. Allora, Massimiliano, buongiorno. Salve, salve, salve. Cosa può acquistare con 2.000 euro? Allora, beh, essendo che lei lavora per il sindaco, avrà uno sconto per mille. Può portarsi a casa un bellissimo code. Molto pratico per il suo lavoro e per le belle distanze. E con poco consumo di benzina. Allora, quindi, credo che lui intenda che possiamo comprare uno di questi code. Allora, a quant'è che ha detto che ce l'ho... No, ho sbagliato, mi scusi. Stavo solo provando l'auto arancione, che non è un'auto blu. Allora, a quant'è che c'è detto cosa può acquistare con 2.000? Essendo che io lavoro per il sindaco, quindi ho degli sconti, visto che lavoro per il sindaco, io lo pagherei mille. Credo che mi convenga fare questa cosa, però proviamo a prendere... Ah, ragazzi, guardate cosa c'è. C'è finalmente un code di colore rosso. O un'auto di colore rosso, dopo auto arancioni, azzurre e quant'altro. Finalmente potremmo comprare anche un mezzo rosso per i pompieri. Quindi facciamo così, ragazzi. Allora, compriamo direttamente questo code. Se non mi sbaglio, ho detto di mettere 1.000 qua dentro. Ok, signor Massimiliano. Guarda come se i ciuccia via direttamente il concessionario sono già spariti, eh. Vabbè, va bene. Poi, tecnicamente la benzina, se non mi sbaglio, la potremmo comprare direttamente qua dentro. Quindi, comprare no, ce la rubiamo. Ragazzi, 4 tanniche di benzina ce le prendiamo, tanto qua non c'è ancora il meccanico. Sì, grazie per la benzina, signor Massimiliano. Giuro che non gliel'ho rubata. Allora, intanto che facciamo il pieno, ma scusatemi, in che senso consuma di meno? Perché io ho visto... Cioè, consuma 20.000 di benzina? Insomma, ragazzi, se non mi sbaglio, l'auto arancione consuma 15.000. Vabbè, vabbè, speriamo di aver comprato anche un code, magari, che va anche abbastanza tanto. Non sto capendo niente, devo fare benzina, aiuto. Quanto è difficile fare benzina un code. Ragazzi, vabbè, allora, facciamo così. Comunque, la nostra prima missione di oggi l'abbiamo fatta. Perché poi dopo dobbiamo andare verso casa nostra, dobbiamo raccogliere i soldi del nostro stipendio. E poi, ragazzi, intanto che faccio benzina vi chiedo. Secondo voi, con questi 1.000 qua, cosa dovrei fare? Intanto usciamo dal concessionario, perché qua, buongiorno, buongiorno. L'auto vengo a recuperarla dopo. Beh, ragazzi, è un bel code, comunque, vi dicevo. Secondo voi, con i 1.000 in più, cosa dovrei fare nella zona dei pompieri? Dovrei comprare altri mobili o comprare dei blocchi per costruire lì vicino, magari, una zona dependance. Una zona dove, magari, mi posso rilassare. Una mini casetta vicino alla caserma dei pompieri. Dove, magari, posso dormire durante i giorni in cui sono in azione. In cui, magari, devo essere irreperibile. Scrivetelo qua sotto nei commenti, con il minutaggio esatto che metto il cuore. A tutti quanti i ragazzi che commentano, appunto, con il minuto esatto. E che sono iscritti al mio canale, mi raccomando. Quindi, iscrivetevi. Perché sono indeciso se comprare mobili, appunto, da mettere all'interno della caserma. Oppure, appunto, costruirsi e vi faccio vedere dove, ragazzi. Perché, secondo me, vicino alla caserma, c'è un bello spazzettino. Allora, apriamo qua. Allora, potremmo fare qua al posto del parcheggio una zona, diciamo, divani, televisioni. Però, è un pochino brutta. Se no, potrei togliere un pochino tutto quanto questo terriccio. E poi, magari, fare, appunto, una casettina vicino alla caserma dei pompieri. Dove possono dormire anche Chris e Pablo. Secondo me, ragazzi, è un'ottima cosa. Però, dovete dirmelo voi qua sotto nei commenti. Che, così, cerco un attimo di capire un po' come la pensate. Sapete che è un po' un lavoro che facciamo tutti quanti assieme. Comunque, allora, andiamo direttamente verso casa nostra. Perché, ora, dobbiamo andare ad arredare la nostra bellissima casettina con i mobili che ho rubato l'altro giorno. Ma quella è la nuova casa di Nati che sta già andando a fuoco. No, no, fermi. Fermi, ma c'è anche un cartello. Questo è un avvertimento per te, DeMarc. Allora, fermi un attimo. Raga, spegniamo subito sto fuoco. Calma, calma, calma. Ma, allora, io ve l'ho detto che usare l'acqua quando devo spegnere l'incendio è un disastro. Utilizziamo le mani e il bucket che è meglio. Perché questo fuoco non si toglie? No, ragazzi, abbiamo fatto un disastro. Allora, riutilizziamo l'acqua. Va bene, ho delle scale con me. Ma è un disastro. Ma stai prendendo fuoco un sacco in alto. Allora, facciamo una cosa. Facciamo il giro. Da dietro riusciamo, secondo me, a salire? Non lo so, ragazzi. Devo distruggere del Terriccio. Devo muovere, perché ho visto anche che il tetto ha fuoco. Ma perché c'è un cartello fuori con scritto Questo è un avvertimento per te, Devo Arc? Ma? Ma? Perché ce l'hanno con me? Non può essere sicuramente perché io abbia rubato all'Ikea, ragazzi. Perché allora a sto punto qualcuno ha fatto la spia. Ok, spegniamo questo tetto qua dal fuoco. Era un mini-incendio. Non ho visto se anche dentro casa ha preso fuoco. Ok, aia! Vabbè, ragazzi, avete visto che non ho preso fuoco? Grazie... No, ragazzi! Anche la casa! Ok, meno male che dentro c'era solo una clessidra. Non c'era nessun mobile o quant'altro. Muoviamoci, 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 muoviamoci. Ok, ragazzi! Ma questo è un avvertimento per DeMarc. Cioè per me, ovviamente! Ma chi è che ha dato fuoco? Allora, sicuramente non può essere stata la ragazza che abbiamo visto al centro città. Perché ci ha detto che ha trovato il Flint and Steel nella zona del parchetto qua arancione, ragazzi. Però, nella zona del parchetto arancione c'è questa signorina qua. Che è completamente diversa da ragazzi di prima. E in questo parchetto qui ha trovato il Flint and Steel, ha detto. Ok, vabbè, fa niente, ragazzi. Allora, comunque, facciamo così. Avviciniamoci verso la nostra casa, visto che mi sembrava tutto quanto molto tranquillo. Almeno vicino alla... No, c'è un cartello anche davanti a casa nostra, non ci abbiamo fatto caso prima. Allora, facciamo così. Prendiamoci i nostri 200. Questo è un avvertimento. Ma mancano le porte. Ma manca... Eeeh... Mancano dei mobili o mi sbaglio? Ragazzi, qua mancano dei mobili però, eh. Qua manca la televisione bianca, il mobile bianco e quello della cucina. No, allora, non possono essere state le guardie dell'IKEA. Però mi vengo da pensare che a questo punto può essere stato qualcuno dell'IKEA che ha saputo che ha rubato i loro mobili. Mmmmm. Allora, ragazzi, più o meno ci va bene, perché con noi abbiamo abbastanza mobili, direi, per riarredare la casa. Vi ricordo che, per esempio, qua c'era un oven e ci è andata bene che nella casa sotto il ponte, comunque, avevamo appunto questo forno. Però, diciamo che mettere un lavandino e poi mettere un gabinetto vicino al lavandino e vicino al forno non è la cosa più bella e consueta. Però, diciamo che non ho abbastanza spazio, deve costruire magari un piano qua sotto. Comunque, arrediamo con quel poco che abbiamo, va. Perché se no qua impazziamo. Però, ragazzi, questa cosa qui è stata molto strana, ve lo dico, eh. Ve lo dico... Cioè, è entrato... Non ho neanche delle porte, ragazzi. Vuol dire che sono entrati e hanno sfondato subito l'ingresso. Comunque, abbiamo due oven, quindi possiamo metterli qua e dove possiamo cuocere la roba. Molto, molto bene questa cosa. Poi, abbiamo anche delle sdraio per l'esterno, che poi abbiamo rubato prima alla zona dei pompieri, che possiamo magari mettere qua all'esterno, che sono comunque molto carini, questo sdraio. E lasciamo direttamente qua fuori. Poi, i duecentoni ce li siamo presi, infatti, dove è il nostro portafoglio, ce li possiamo mettere anche direttamente qua via. Molto, ma molto bene. E poi, cos'altro abbiamo? Abbiamo un altro paio di tavolini, che possiamo mettere uno qua e uno qua all'ingresso. E poi, cos'altro abbiamo? Beh, è una scopa, ragazzi. Lo sapete che qua dobbiamo regalare scopa a tutti quanti i nostri amici, quindi mettiamola qua. E già che ci siamo, andiamo a regalarne una anche al buon Nat. Dato che comunque era pieno di fuoco. Prima potevamo anche spegnere il fuoco con la scopa. Nella casa di Sefere, poi magari davanti a casa anche di Mab... No, ehm... Dove posso... Eh, qua. Lasciamo una scopa qua a Marci. E questa qua è la casa di Mabby, nome in codice. Credo che intenda Gabby. Vabbè, ragazzi, io lo so, ma è la casa di Gabby quella. Però mi sembrava che la situazione qua sia molto strana, perché mi hanno minacciato, ragazzi. Mi hanno minacciato e hanno dato fuoco alla casa di un mio amico. Eh, così a caso, che poi è nuova di pacca. Ma perché hanno dovuto attaccare un mio amico quando poteva andare fuoco a me? Direttamente a me? Ma hanno attaccato il buon Nat. Vabbè, non lo sapremo mai, ragazzi. Comunque, spero che questo video qua della vita in città vi sia piaciuto. Mi raccomando di lasciare un bel, mi piace, un bel commento. Ah, iscrivetevi al mio canale se ancora non avete fatto a scegliere uno dei due video qua davanti. Mi raccomando, è molto importante, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanellina su tutte quante notifiche. E noi ci vediamo in un prossimo video. Da Marche è tutto, ragazzi. Mi raccomando, scegliete uno dei due video qua davanti. Ciao, ciao. Ci vediamo alle 7 e un quarto. Ci vediamo alle 8 e un quarto.